L'indagine su Michael Flynn s'annuncia tutta in salita. L'ex consigliere per la sicuretà nazionale di Donald Trump rifiuta di consegnare alla Commissione Intelligence del Senato degli Stati Uniti i documenti relativi all'inchiesta sul cosiddetto Russia Gay. Lo scandalo sulle interferenze di Mosca nella campagna per le presidenziali 2011 era accostato al generale Flynn l'incarico affidato gli da Trump. Secondo la stampa statunitense, facendo appello al quinto emendamento, Flynn esercita certo il diritto costituzionale a non deporre in un contesto che possa contribuire alla propria incriminazione, ma il segnale inviato nel pieno della bufera che ha legge sulla Casa Bianca non facilita a rasserenare il clima politico. Gli inquirenti cercano in particolare di approfondire il contesto nel quale Flynn beneficiò di un viaggio spesato a Mosca che gli valse una Cina con Vladimir Putin. Altro filone dell'inchiesta riguarda più direttamente Trump e si concentra sulle presenute pressioni che il presidente stesso avrebbe esercitato. sull'ex direttore dell'FBI James Comey proprio affinché archiviasse le indagini su Flynn.